Questa è la nuova fognatura ancora non messa in funzione Questa è una differenza tra il chiaro e l'oscuro Cosa c'è qua? Questa è evidente tecnologia 2000 La fognatura scarica tutto l'acqua, non arriva fin qua Questa non depura più niente Questa è l'acqua di fogna che arriva Arriva in questa vasca Invece che andare verso il depuratore Verso le vasche di depurazione Da lì non entra perché probabilmente c'è un intesamento E va quasi tutta nell'uscita del troppo pieno Ovvero torba direttamente nel torrente Perché il depuratore non la recepisce più Questo uscello invece ha un colore del tutto innaturale Perché questa è acqua che dovrebbe essere piovana E irrigare i nostri campi E invece ha un colore che fa pensare a tutt'altro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti